Con il cuore mondano non si può capire la necessità e il bisogno degli altri. Durante l'omelia della missa celebrata a Santa Marta, Papa Francesco si è soffermato sulla figura dell'uomo ricco che pur non essendo cattivo non si accorge del povero che gli è vicino. La mondanità dunque è un peccato sottile che ci rende ciechi rispetto a un mondo prossimo che si trova in difficoltà. Oltre ogni ipocrita apparenza, Papa Bergoglio ha chiesto a tutti di affidarsi al padre che ci aspetta e che mai ci lascia orfani, pur in mezzo a quella mondanità che ci fa perdere i riferimenti con la nostra vera identità. Quando usciva da casa, forse la macchina con la quale usciva aveva i vetri oscuri, i vetri oscurati per non vedere fuori. Forse, ma non so, ma sicuramente sì, la sua anima, gli occhi della sua anima erano oscurati per non vedere. Soltanto vedeva dentro la sua vita. E non se ne accorgeva cosa era accaduto a quest'uomo, che non era cattivo. Il Vangelo non dice che era cattivo. Era ammalato. Ammalato di mondanità. E la mondanità trasforma le anime. Fa perdere la coscienza della realtà. Vivono in un mondo artificiale, fatto da loro. La mondanità anestetizza l'anima. E per questo quest'uomo mondano non era capace di vedere la realtà. E per questo quest'uomo mondanità. E per questo quest'uomo mondanità. E per questo quest'uomo mondanità.